Vi siete mai chiesti come riuscire a spiare le persone senza che loro se ne accorgano? In questo video abbiamo fatto vedere i gadget spia più incredibili e più assurdi del mondo! Una cosa è certa, dopo aver visto questi gadget, il mondo non sarà più lo stesso! Volete spiare il vostro migliore amico? Non vi fidate di vostra moglie! Questi gadget, signori, vi lasceranno a bocca aperta! Foxy, qui abbiamo i gadget più incredibili che usano gli agenti 007! E tu saresti un agente 007! Vabbè, fidati che dopo questo video, zio, lo vedrai! Iniziamo subito con il primo gadget, lasciando stare tutti gli altri! E signori e signore, apriamo il primo! Non sono costati tantissimo, raga, tutti sono costati all'incirca 160 euro, quindi niente male! Partendo dal classico, raga, qui di fronte a noi abbiamo una telecamera spia! Cioè, tantissime volte voi vedete video dove spiamo le persone, no? Ecco, è grazie a questa qui! Una semplice telecamerina, raga, che apparentemente non sembra neanche una telecamera! Ok? L'abbiamo accesa, raga, guardate! In questo momento, raga, dovrebbe iniziare a registrare, se non erro! Qui possiamo mettere praticamente la memory card e lei registrerà, in teoria, no? Oh, ecco a lei! Grazie mille, signor Foxy! Andiamola a mettere, raga, e vediamo come funziona, perché in teoria, allora, ok, l'abbiamo inserita! Sì, in teoria! No, zi, non esce più adesso! Ma stai scherzando? No, frate, dai! No, te lo giuro, c'è una pinzietta, ma non lo so scherzando! Oddio! No, raga, non esce più, guarda! Ma guarda te, se dovevo mettermi col kit qua del taglio unghie a levare l'Sd, ma come ca... No, fra, non esce! Sì, sì, l'ho estratta! L'ho estratta! Vai! E dopo otto anni siamo riusciti a connetterla tramite il cellulare e la sua applicazione, e il risultato è questo qui! Fra, fra, funziona, fra, guarda! Funziona! Sì, fra, si vede la merda, però funziona, cioè, io vorrei vedere, cioè, se la tengo fissa, per esempio, qua, raga, aspetta! Ma registra! Sì, sta registrando, guarda! La qualità, raga, è abbastanza scadente, come stiamo vedendo, cioè, guardate qua, fra, fa poco schifo, guarda! È incredibile! Oddio, ma è zoomatissima, fra! Riprendi, riprendi, fra, guarda che schifo, fra! Guarda che schifo! Ma è zoomatissima, fra! Ma appunto, raga, vabbè, la qualità è veramente, ma veramente vergognosa, frate! Io non so come sia possibile questa roba, ok? È anche vero che costano otto euro, eh, quindi... Quanto? Otto euro, otto euro! Otto euro, cioè, non è che puoi aspettarti, magari, forse, se sta ferma, no, in casa, cioè, così, magari vedete che ci sono i ladri, vabbè, raga, cioè, questa è, fa schifo, infatti, la cestiniamo direttamente! Bocciata! Signori e signore, passiamo al secondo gadget che, apparentemente, se lo andiamo ad aprire, sembra un normalissimo orologio, no, Foxy? Sì! Lo vedi? È un orologio, vero? È un orologio! È un orologio, sì, è un orologio! Ma non è un normale orologio, perché, guarda attentamente, guarda, c'ha una piccola pellicola, no, perché qui... E anche questo è una spia! In alto a sinistra ha una fotocamera! Una fotocamera, zio! Allora, io non vedo l'ora di andarlo a provare, ora, non ne ho idea di come funzioni, sembra un normale orologio da corsa, quelli che usano per allenarsi, e state registrando tutto, cioè, boh, vabbè. Ma se in questo momento sto robo registra, raga, voi lo vedete, allora, adesso io faccio tutti i test, no, facciamo finta che sia, per esempio, a scuola, non dovete mai usare questi gadget a scuola. Mi raccomando, eh! Non li usate, non li usate. Ma poi che se ne devono fare dei gadget spia a scuola? Ma non lo so, comunque io adesso sto spiando, mi giro, mi giro e sto spiando anche te, in teoria, no? Ti sto registrando in questo momento, vedi? Che cosa ti servirebbe registrare in questo momento? Però è un orologio normalissimo, cioè, voi non lo state vedendo, ma guarda, col cuore significa che la registrazione è attiva. Ah, sì? Sì, sto registrando. Ovviamente sono le 3.51 di notte, no? Ma non lo so, zio, però, però sto registrando, cioè, guarda qua, saluto, bravo. Che figata, c'è un orologio normalissimo, raga, cioè, spia proprio, spia proprio, guarda qua. Questo, questo promosso. Cioè, se la qualità è buona, è promosso. Se la qualità non è buona, ve lo faremo sapere. Ed effettivamente, raga, faceva un po' schifo. Ma a proposito di scuola, tenetevi pronti, perché quello che abbiamo qua, Foxy, lascerà tutti senza fiato. Frate, ma tu non hai idea, guardala, 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 che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? No, fra! Che cos'è? No, fra! Che cos'è? Ma questa la vedevo da bambino nei film del 2007. Che cos'è? È una fattutissima penna, fra! Però ha una telecamera. Telecamera! Una telecamera integrata. Tu non te ne accorgi? In questo momento potresti essere ripreso. Veramente? Beh, ora non sta registrando, ma tra pochissimo, raga, capiremo come funziona e vedremo se registra. Allora. Scrive anche. Scrive, guarda, scrive. Sì, addirittura. Scrivo S, guarda, vedi, scrive. Addirittura. E anche una penna spia, guarda attentamente. Oddio! Ha una memory card all'interno, un attacco micro USB per connetterlo al computer e basta, non ha più niente. Ma sta registrando, fra! Oddio! Sta registrando! Allora, in teoria, raga, mi sta registrando in questo momento ed è una penna, fra! Cioè, non si vede, non ha una telecamera, guarda! Fra, allora, io intanto scrivo, no, scrivo. Ma sta roba è troppo. Guarda, scrivo, scrivo intanto. Datemi qualcosa da scrivere. Scrivo. Scrivo, fra, e intanto sto registrando. Se la giro da questa parte, scrivo, scrivo, no? E sto registrando, fra, sto registrando. Stai registrando? Sì, sto registrando, guarda. Gli stai registrando a te stesso? Sto registrando, fra. E se voglio interrompere la registrazione, premo un click. Boh! Sei interrotta. Sei interrotta la registrazione, ma se voglio fare una foto, metti caso io voglio fare una foto raspiglia così al volo, premo un click, guarda, eh. Ma ti ho fatto la foto. Vabbè. Guarda, clic. Ti ho fatto la foto, in teoria. No. Adesso anch'io. Mi son fatto la foto, raga. Cioè, è incredibile. Ma è incredibile. No, ma questa qua ce la teniamo, fra. Cioè, metti in giro. Devo andare da qualche parte a fare un video. Ora, vai a capire che tipo di video è e con che qualità sarà, eh. Questo non lo sappiamo. Secondo me sarà una qualità proprio di merda, di quella bestiale. Però, raga, dopo tutto, non è male. Signore e signore, questa penna è costata ben 18 euro e li vale tutti. Li vale tutti, dai. Li vale, li vale. 18 euro. Vedremo la qualità. Guardate, ma che cazzo. Vieni, porta qua, porta qua. Perché, signori e signore, questa qui è la telecamera con il quale voi potete vedervi cosa avete nel buco del... Ma che cazzo stai dicendo? No, no, no. Non era così? No, non era così. E puoi vedere... Signori, questa è la telecamera con il quale voi potete vedere cosa c'è nel buco del vicino di casa vostra. Ma ecco, bravo. Questa qua, frate, voi la mettete ovunque, guarda. Ma che schifo! Fra, è incredibile. No, frate. No, ma sta roba può essere usata anche per spiare il vicino. Vai, vai, inquadra, inquadra. Ragazzi, Foxy sta mettendo in questo momento l'endoscopia nel vicino. Vediamo. Allora, vediamo alberi. Inquadra meglio, Foxy. Non si vede niente qua. Correggio. È meglio. Magari il cielo sta inquadrando, zio. Ok. Vabbè, ragazzi, ma proprio fra così. Vai, vai, vai. Guarda, guarda, guarda. Adesso, guarda, vedo, vedo alberi. Muovi, muovi a destra, a sinistra, frate. Muovi altri alberi. No, non si vede abbastanza bene, fra. Non si vede bene. Ma cosa sta inquadrando? Oh, ma cosa sta inquadrando? Cosa sta? Ma ti sta inquadrando tu? Ma che cosa? Ma vabbè, questo è cretino, daga. Lascia stare, lascia stare, lascia stare. Signori, stiamo per scoprire cosa c'è all'interno delle tubature del cesso. Ma questa è una cosa curiosa che volevi guardare. Ma la metti in tutta l'acqua. Sì, in tutta l'acqua, in teoria, dovrebbe funzionare. Guarda, in teoria, aspetta, frate, cosa c'è, fra. Aspetta un secondo. Oddio, ma, aspetta, frate, questo è un pezzo di cacca. Aspetta, frate, ma questo, questo è un pezzo di cacca. Vai, ma che schifo. Vai, no, frate. Disinfetta sto robo, frate. Censuriamo, censuriamo. Disinfetta sto robo, frate. Disinfettano tu, disinfetta. Vabbè, in sostanza, avete capito che con 16,99, raga, potete spiare anche cose che non si possono spiare. Il cesso. No, per esempio, vostra moglie che vi tradisce. Tu metti questo e la vedi mentre ti stai dicendo. L'hai appena toccato. Ma se tutto questo vi ha stupito, allora questo qui, signori e signori, non mi farà dormire questa notte, perché dopo questo gadget, caro mio Foxy, vi sentirete, vi sentirai, spirato sempre e comunque. Com'è possibile, scusami. Signori e signore, guardate attentamente quello che vi sto per far vedere, perché questo qui, apparentemente, vi può sembrare un quadro. Ma è un quadro, frate. È un quadro, vero? È un quadro. È un quadro, no? Ma qui, Foxy. Qui. No. C'è una telecamera. Pure qui. Una telecamera. Signori, qua non la vedete? C'è una telecamera. Non ci credo, stavolta io non ci credo. No, ve lo giuro. Tu mi stai trollando. Non ti sto trollando, caro mio Foxy. Mi stai trollando. Non ti sto trollando, te lo giuro. Qui c'è una telecamera. Un normalissimo quadro. Ma se vado a premere un pulsante, signori, entra nella modalità registrazione. No, mi stanno vedendo. Ti stanno vedendo, frate. Mi stanno vedendo. Com'è possibile? Non c'è niente, è un quadro. In questo momento sei ripreso, frate. Com'è possibile? Cioè, raga, io da ora in poi avrò paura di tutti i quadri, ve lo dico. Quals'è la cosa più figa che l'abbiamo mai visto. Fratello, ma è assurdo. Ma vi dirò di più, perché oltre a registrare, in teoria, in questo momento io sono registrato. Speriamo di non fare, tra l'altro, fail, perché sennò, fratello, tutto il video esce senza le clip, senza le registrazioni. Oltre alla modalità registrazione, come dicevo, c'è anche la modalità... Che modalità? La modalità rilevazione del movimento. Cioè, io, sì, io in teoria, raga, ora sto registrando, la vado a mettere, modalità rilevazione movimento, ho fatto. E quindi, se qualcuno passa, arriva la notifica... Inizia a reccare. Sì, no, inizia a registrare e arriva la notifica nell'app. Pure! No, zio, è una telecamera, cioè... È folle come cosa. È folle, è folle, è folle come cosa. Signori e signore, questi erano i gadget sfiga, ma attenzione, raga, all'usura di questi gadget, eh, perché altrimenti, raga, vi buttano al gabbio direttamente. Fatemi sapere nei commenti quale, secondo voi, è il gadget più bello e, che dire, non diventate troppo agenti 007, eh. No, non farlo, fra... Io sono curioso, tra l'altro, di cosa c'è nel naso... No, fra, che schifo. Che schifo! Che cazzo stai facendo, fra? Cosa c'è nel mio sistema apparato respiratorio, capito? Perché cazzo... Aspetta, 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 aspetta... C'è un canale, c'è un canale. No, fra, c'è... C'è un canale, c'è un canale. Vabbè.